comincia ad incrinarsi il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al grande fratello VIP. Dopo le due notti di passione passate insieme sotto le coperte, i due GF'ini hanno avuto un acceso faccia a faccia. Terzo incomodo Sofia Giaele Dedonà, che ha avuto un flirt con l'ex hair stylist prima dell'ingresso dell'influencer venezuelana. Giaele, su richiesta della stessa Oriana, è andata a parlare con Antonino per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso in merito al loro rapporto. Che tanto ha fatto discutere visto che la Dedonà è sposata. La Marzoli ha precisato di non aver mai detto alla coinquilina di non avvicinarsi all'ex compagno di Belen. Tuttavia da qualche giorno il rapporto tra Giaele e Antonino non è più lo stesso al GF VIP. I due si sono allontanati e secondo la modella la colpa è pure della sudamericana. E una K asterisco 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 ta che io non mi avvicino a te. Sei tu che hai paura di avvicinarti quando c'è Oriana. Mi sono allontanata per la situazione che si è creata e anche perché mi sono avvicinata ad altre persone. Ha detto la Dedonà. Antonino Spinalbese ha replicato piccato. Non fare la furba. Sono venuto da te e ti ho detto che è da 4 a 5 giorni che non mi consideri. Tu mi cerchi solo per i K asterisco asterisco i tuoi e per questo sei maleducata. Il giovane ha poi avuto un confronto di fuoco con Oriana Marzoli. Quest'ultima è andata su tutte le furie dopo aver appreso che Antonino avrebbe raccontato a Giaele di essere intimorito da lei e dal fatto che l'ha definito il suo uomo. Ma Oriana non l'avrebbe mai chiamato tale. Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo. Ha ribattuto Antonino Spinalbese ha spiegato il motivo delle sue paure nella casa. Dove il tempo sembra dilatato. Questa cosa mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma. Se hai paura e vuoi andare piano. Non venire a dormire con me. Ha aggiunto seccata Oriana. Nessuno mi obbliga. Ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo. Mi imbarazzava. Ha concluso Antonino.